video by miss dark ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi siamo qui con un nuovo video spacchettamento e oggi andremo ad aprire le tre collezioni con spilla degli starter di zenith regale io direi di iniziare ad aprirle e prendere i pacchetti quindi affidiamoci al nostro amico filato e non c'è stato bisogno sicuramente prendiamo i nostri tre pack 1,2,3 codicino via che poi ci serve e carta qui spilletta qui e come al solito le carte per terra andiamo ad aprire l'altro li apro così perché non voglio rovinare le carte all'interno capito? siccome li piego sempre poi faccio così altri due e non c'è due senza tre codicino via carta la mettiamo qui ho dato un bel pugno al microfono confezione a terra e spilletta sopra la carta così si vede ci rimane solo quella di intelion e noi la apriamo così piano 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 ok ce l'abbiamo fatto dopo un annetto possiamo tagliacarte intelion e la spilla la mettiamo qui e abbiamo completato le tre spille e le tre promo quella di intelion non vuole stare girata ok non ci sto codicino via carta a terra e iniziamo con i nostri nuove pacchettis nuove pacchettis nuove pacchettis codicino via carta a terra 4 e 2 6 e iniziamo cricquetot schinx mr. mind di gala sanker koffing energialampo ultraball martello dirrompente laxio licarock e taurus bello primo pacchettis prima merda non ci dice però intanto è quello che è uscito secondo pacchettino carta via codice via 4 e 2 davanti yanma pain ward cricquetot chetot mr. mind di galar energia erba aspirante creatore perduto electric ultraball di nuovo eternator lucentes che ci mancava e leopard allora primo pull ok ma forse non so se mi mancavo ce l'avevo ma io vorrei trovare una gold in realtà non direi tanto una sola codicino via 4 e 2 6 questa forse è gratta può essere pokeball yangos cherubi execute recupero di energia energia lampo e la mettiamo da parte salazzol dusclop metang puciena del puzzle è bellissimo mio tuolo è mio tuolo e già qui ci può stare questo pacchetto già ci può stare con questo qui non ci lamentiamo perché comunque qualcosa ci è uscita fuori andiamo al quarto pack apriamolo sempre con delicatezza la carta non la buttiamo perché è tardi e poi devo pulire io e mi girano le palle qua mi sa che non c'è nulla non c'è nulla execute recupero di energia emolga loop disk chetot energia acqua megaball scarpe da trekking laxio pangarul reverse drealg e infatti qui non c'era un bel cazzo di niente vediamo se troviamo qualcosa in queste collezioni mettiamo che l'ultima era quella di inteleon ed è stata la più sfigata 4 e 2 6 stavo guardando che queste carte sembravano distrutte ancora prima di uscire dal pacchetto l'harvestar oddish seal pozione aaron energia metallo ultra ball salazzol dusk l'unaton reverse che non serve un cazzo e enamorus allora fino ad ora non ho trovato nulla e rimangono gli ultimi 4 pack quindi forse queste collezioni sono una scammata pazzesca può essere può essere misa al dc 4 e qua non c'è niente nemmeno e 2 6 yanma painward cricketed shinx mr myrm di galar di nuovo energia psico aspiratore perduto electric ultra ball di nuovo oh l'energia fuoco ma non quella fuori serie finalmente l'ho trovato sigillo mi va pure bene perchè io non ce l'avevo sigillo mi va pure bene almeno lo posso giocare che non ce l'avevo ce l'avevo prestato ultima confezione mettiamola così ultima tin gli ultimi 3 pack codicino via pacchettino via tricchettino fatto espirivette stonzi snorant rockcraft tangela baltoi meo di galar energia boh schifo buio amici a sinno amici e vadditi glom megaball chargabug lucente e lì è parte di nuovo ok quindi ora teoricamente dovrei prendere una galarian gallery dammi una galarian gallery di quella bella succulenta e io ne sarei pure felice codicino via tricch tricc al solito questo via e questo via pure tangela baltoi meo di galar whalemer schinks energia schifosa via martello dirompente dusclops scarpe da trekking di nuovo aspiratore perduto di nuovo e taurus cioè io non vorrei dire ma in 9 pack nemmeno una b c'è nulla nulla né una b né ok due lucenti ma voglio dire noi vogliamo le carte succulenti figa 4 e 2 e 6 qua c'è qualcosa non sarà qualcosa di raro ma c'è qualcosa perlomeno sclerp heliotype vulu schinks pancham energia schifo di nuovo dusclops e scarpe da trekking l'iron bibarel questo è bellissimo e zamazenta almeno per quello che può valere abbiamo trovato qualcosa ricapitolando abbiamo trovato un bel bibarel chr zamazenta anzi charger bug lucente zamazenta v energia fuoco normalissima sigillo celeste puciena mewtwo e deternato solucente devo dire non c'è andato malissimo come come spacchettamento però se troviamo qualche cosa in più che ci mancava non sarebbe stato male penso ragazzoli quale momento migliore di questo per mettere un bel mi piace iscriverti al canale lasciare un commentino a te non costa nulla a me fai un grosso favore quindi sbrigati prima di chiudere il video e ci vediamo al prossimo ciao